A primare è sempre la nostra grande pranzia Fiburiani Si tratta Andi fare a militelli, anzi fare a militelli Giusto prenderà la prossima miss La fascia quella di un missus fitness Che gira Gira da Seregatina Fiburiani Seregatina Fiburiani La prossima fascia segnata a questo pomeriggio è quella di Miss Cinema Grinna Questa fascia è stata vinta da La numero 16 Tatiana Ramirez La prossima fascia segnata a questo pomeriggio è stata vinta da scuola La prossima fascia segnata a questo pomeriggio è stata vinta da scuola Ancora una fascia da segnata è quella di Miss Gerlinda Fashion Questa fascia è stata vinta da La prossima fascia segnata a questo pomeriggio è stata vinta da scuola La prossima fascia segnata a questo pomeriggio è stata vinta da scuola Grazie a tutti